Grazie Grazie. 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 Grazie a te nesi che costoro mi accusassero a voi, altri mi accusavano per lunghi anni e ora è giusto che io mi difenda anzitutto da quei primi accusatori e poi da questi. Ma devo difendermi perché così vuole la legge, devo cercare di svellere dalle vostre anime la calunnia che vi si è radicata perché ripetuta per anni e anni, mentre a me ora per la difesa non si concedono che pochi istanti. Ma vada come al Dio piacerà. Qual era l'accusa di quei primi? Ecco, Socrate è colpevole di indagare le cose celestiali e le sotterranee e di saper rendere più forti le ragioni più deboli. Tale l'accusa. E voi, certo, l'avrete udita ripetere e l'avrete anche veduta illustrata sul teatro, nella commedia d'Aristofane, il quale presenta un povero Socrate che va ruzzolando fra le nuvole e che parla spropositando di cose che io non capisco neppure. E delle quali io non ho mai parlato e ne cito a testimoni voi, voi stessi, che mi avete sentito tante volte parlare nelle piazze, nelle strade. E voglio che vi diciate gli uni con gli altri quando mai io ho ragionato di tali argomenti. Qualcuno dirà, ma allora Socrate, da che deriva la calunnia? Dici tu la verità, affinché non giudichiamo alla cieca. Lo farò. State attenti. Tutti voi conoscete Cherofonte? Fummo amici da ragazzi. Un giorno Cherofonte, andato a Delphi, volle interrogare l'oracolo intorno a me. Chiese dunque al nome se in Atene vi fosse qualcuno più sapiente di me. Ebbene, la pittia rispose che più sapiente di Socrate non c'era nessuno. Oh, ma date, vi dico questo per spiegarvi com'è nata la calunnia. Io, udita la risposta, cominciai a pensare che cosa avesse voluto dire il nome. A che cosa alludesse? Perché certo, io non ho coscienza di essere sapiente né molto né poco. Che cosa dunque ha voluto dire il nome? Cominciai ad investigare. Me ne andai da uno che aveva fama di sapiente. No, è inutile dire il nome. Era uno dei sapienti politici. Ragionando dunque con costui e esaminandolo, mi parte che egli sembrasse sì sapiente a molti e soprattutto a se stesso, ma che non lo fosse. E allora io cercai di dimostrargli come poveretto vivesse in una illusione, credendosi sapiente mentre non lo era affatto. Per questa mia dimostrazione, venne in odio a lui e in uggia a tutti i suoi parenti, amici e ne aveva tanti anche lì presenti. Andandomene, io pensavo, quest'uomo crede di sapere e non sa. Mentre io, che non so, non credo neppure di sapere. Quindi almeno in questo io sono più sapiente di lui. Me ne andai da un altro che dicevano anche più sapiente di quello. E la mia conclusione fu la medesima. Io continuai a investigare perché credevo mio dovere spiegarmi e rendermi conto del senso delle parole del nome. E continuai a cercare, interrogare quelli che si dicevano più sapienti. E corpo di un cane ateniesi, quelli che avevano maggior fama di sapienza, erano quelli che sapevano meno. Mentre altri, tenuti in nessun conto, li trovai maggiori in saggezza. E passai dagli uomini politici ai poeti, ai tragici, ai ditirambici e compulsai i loro versi. Ma quando chiesi loro ciò che avessero voluto significare, mi avvidi, mi vergogno a dirvi questa verità, mi avvidi che di tutto ciò che avevano scritto, gli altri ne ragionavano con più cognizione di loro. Quest'oro poetavano per ricchezza di fantasia, perché così voleva la loro natura. E per questa loro facilità di verseggiare, credevano di essere sapientissimi in tutto. Finì per recarmi dagli artefici. Ah, questi sì, sapevano quello che io non sapevo. E perciò, almeno che riguarda l'arte loro, erano più sapienti di me. Ma mi avvidi che anche gli artefici avevano lo stesso peccato dei poeti. Perché sapevano lavorare bene nell'arte loro, erano convinti di essere sapientissimi in tutte le cose, anche le più gravi. Per questa mia ricerca e disamina, Ateniesi, mi caddero addosso tante inimicizie, e così aspre e crudeli, da generare poi la calunnia sulle mie spalle, aggravandola col nome di sapiente. Da tutta la mia ricerca, è risultato questo, che il vero sapiente è il Dio, e che nella sua risposta abbia voluto significare, servendosi del mio nome, come per un esempio, che in Atene il più sapiente di tutti è colui che come Socrate sa che in fatto di sapienza non vale proprio nulla. Per questa mia indagine, per adempiere a questo dovere verso il nome, non ebbi tempo né modo di occuparmi di altre cose per me e per la mia casa, e vivo quindi nella più grande povertà. I giovani, che per loro impulso mi seguono, che essendo figli di ricchi possono farlo, si divertono a sentirmi scrutare l'anima delle persone, cercano di imitarmi e ne scrutano altre a loro volta, e gli scrutati, tormentati dall'indagine, che credono di sapere e sono costretti a confessare che non sanno, se la pigliano con me e dicono che io corrompo i giovani. E sulla base di queste calunnie, ecco Anito, Meleto e Licone, scagliarmi si contro. Questa, Ateniesi, è la verità. Queste le cause della calunnia e non potrete trovarne altre. Ed ora tenterò difendermi dalle accuse di Meleto, l'uomo onesto e amico della città, dice lui. Ecco l'accusa, Socrate e Reo, di corrompere i giovani, di non credere agli dèi che Atene venera, ma ad altri dèi demonici che tenta introdurre nella città. Esaminiamo punto per punto. Ma prima lasciate che io denunzi costumi. Il colpevole è lui, colpevole di scherzare con la giustizia e prendere a giuoco la legge. Ora ve lo provo. Dimmi, Meleto, non vuoi tu che i giovani divengano migliori quanto è più possibile? Io sì. Ebbene, di a costoro chi può renderli migliori. E devi saperlo se ti sta tanto a cuore. Se hai scoperto che io li corrompo, devi anche poter dire chi li rende migliori. Ah, tu taci. Non sai cosa rispondere? Ma è questo prova che tu dei giovani non ti sei mai curato. Su, dunque, di chi li rende migliori? Le leggi. Ma non questo domando, o uomo eccellente, ma chi conosca anzi tutto le leggi. Costoro Socrate, i giudici. A costoro, dunque, sono in grado di educare i giovani e renderli migliori. Sicuro? Ma tutti, o alcuni sì e altri no. Tutti? Ah, che lieta notizia mi dai. E questi nostri ascoltatori? Anche essi li rendono migliori? Anche questi. Ah, e i consiglieri? Anche i consiglieri. E tutti quei cittadini che compongono l'assemblea, che siano essi corruttori, o anche questi li rendono migliori? Sì, anche questi. Dunque, tutti gli attenesi rendono migliori i giovani e io solo li corrompo. Lo affermo con tutte le mie forze. E dimmi un po', buon giovane, accade lo stesso anche per i cavalli? Che tutti quelli che se ne servano li migliorino e soltanto il maestro, quello che sa di equitazione, li guasti? O non accade invece tutto il contrario? So via, Meleto, confessa che di educare e migliorare i giovani tu non ne sai niente. Tu affermi, buon uomo, nella tua accusa che io insegno a non venerare gli dèi che Atene venera, ma altri dèi demonici che cerco introdurre in città e insegnando ciò corrompo i giovani. Sì, lo affermo con tutta l'anima mia. Allora, cerca di parlare chiaro nel nome degli dèi. Io non capisco ancora se tu mi accusi di non credere agli dèi che Atene venera e insegnare agli altri a non credervi, ma credere però che vi siano altri dèi demonici che cerco di introdurre nella città. Oppure, mi accusi addirittura di non credere affatto all'esistenza degli dèi. Sì, questo affermo che tu non credi affatto agli dèi. Oh, uomo meraviglioso. Allora, io non credo che siano dèi neppure il sole e la luna. Ma no, Perseus o giudici, perché gli afferma che il sole è un sasso e la luna è un po' di terra. Eh, ma tu accusi Amazzagora allora. Guardi, costui è un giocogliere, ci compone un indovinello per mettere alla prova la mia e la vostra intelligenza. La sua accusa è un'allegra contraddizione, come se dicesse Socrate e Rero di non credere all'esistenza degli dèi perché crede all'esistenza degli dèi. Costui ci deride allegramente. Rispondi, meleco. Sì, io non credo cittadini Io non credo non credo chiasso non fate chiasso cittadini può mai essere esistano fatti umani ma non esistano uomini No, 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 risponda ora, non si dimeni, non si gratti. Può essere che uno creda esistano briglie e selle per cavalli, ma non esistono cavalli? O esistono flautisti, ma non esistono flauti? Ma perché non vuoi rispondere? Rispondi, o pezzo di galantuomo. Può essere che uno creda esistono fatti demonici, ma non esistono demoni? Non è possibile. Tu affermi che io voglio introdurre in Atene nuovi enti demoniaci, dunque io devo ammettere che esistono demoni. E i demoni non sono forse figli degli dèi o dèi essi stessi? Rispondi, sì o no? Sì, certo. Ecco dunque qual è il tuo allegro indovinello. Tu affermi che mentre io penso che gli dèi non esistono affatto, penso anche che esistono i demoni che sono figli degli dèi. Sarebbe come dire che non esistono né asini né cavalli, ma esistono però i muli che sono figli dei cavalli e degli asini. E su questa accusa, Atenesi, credo di non dover aggiungere altro. Sovia, se io abbia corrotto qualche giovane, ora che è fatto adulto, si faccia innanzi. Mi accusi e si vendichi. E ve ne sono molti qui che mi ascoltarono e mi seguirono. Questo, per esempio, Critone, mio coetane, e Elisania, padre di questo Eschile, e Demodoco, di cui era fratello Teagete, e questo Adimante di Aristone, di cui è fratello questo qua, Platone, e molti, molti altri che potranno venire qui a dire che Meleto mentisce. E io dico la verità. Concludiamo. Già molti che si trovarono a lottare in una lotta anche meno grave di questa mia, pregarono, scongiurarono i giudici, e piazzero, e portarono qui i loro figliuoli per muovere la compassione. E congiunti e amici diedero a voi, giudici, grandi spettacoli di lacrime, d'angosce e di disperazione. Io non farò nulla di tutto ciò. Quantunque corra pericolo di morte, e sebbene anch'io abbia congiunti, che, come dice Omero, non nacqui da una percia o da una pietra, ma quassù non farò venire nessuno. E non lo farò, Ateniesi, non già per dispregio di voi, né per orgoglio mio, ma perché mi sembra contrario alla umana dignità, e anche per la mia reputazione, vera o falsa che sia. Si afferma che Socrate non è come tutti gli altri, e questo impone a me di dare giusti esempi. Che io tema o non tema la morte, non è cosa che preme. Ho veduto più volte smarrire il senno per questa paura, come se non condannati da voi, certi uomini fossero sicuri di vivere eternamente. e fanno cose strabilianti e ridicole per salvarsi. E ciò è vergognoso, perché dà diritto ai forestieri di pensare che quelli che gli Ateniesi scelgono alle magistrature, valgono venendo di fede. Coteste miserevoli farse per intenerire i giudici, non è bene che le facciamo noi, uomini di reputazione, né che le permettiate voi magistrati. Voi dovete anzi mostrarvi più severi con quelli che vi recitano i drammi pietosi, gettando il ridicolo sulla giustizia prima e sulla patria poi. Se tentassi di commovere, di corrompere con la pietà, voi, giudici legati da giuramento, vi insegnerei a non credere agli dèi e mostrerei apertamente di non credervi io stesso. Mentre invece la verità Ateniesi è questa, che io credo come nessuno dei miei accusatori e lascio a voi e al Dio di giudicare come meglio sarà per me e per voi. Per maggioranza di trenta voti Socrate di Sofronisco è condannato. La condanna per tali delitti è di morte, ma il reo può proporre una commutazione di pena, l'esilio o una multa se i giudici vorranno accettarla. Se io non mi adiro che mi abbiate dichiarato colpevole è per molte ragioni, prima fra le quali che il caso non era inaspettato e non credevo neppure che la differenza dei voti fosse così lieve. Se trenta voti si fossero spostati io sarei stato assolto. Costui dunque mi aggiudica la morte. Ma io che cosa mi aggiudicherò? Che cosa merito io per aver voluto giovare alle anime dei miei concittadini non curando ciò che preme a tutti gli altri e cioè il guadagno gli interessi domestici comandi militari magistrature che cosa merito io? Che cosa si può offrire a un uomo povero e benemerito? Il vitto quotidiano nel printaneo a spese dello Stato. E mi pare che sarebbe più meritato che se ciò si aggiudicasse a uno di voi che ha vinto nei giochi olimpici una corsa di cavalli di bighe e di quadrighe. Ecco dunque quello che mi aggiudico il vitto nel printaneo. Ciò forse vi sembra ironia ma non è. io sono certo e quindi anche persuaso di non aver mai mancato in nulla e contro nessuno ma non è facile persuaderne voi non avendo mai fatto torto ad alcuno non intendo di farne ora a me stesso aggiudicandomi una punizione come se fossi davvero colpevole per salvarmi poi da che cosa? Dalla morte la morte che io affermo ancora di non sapere se sia un bene o un male e dovrei in cambio aggiudicarvi una di quelle punizioni che so essere un male e e quali? Il carico e restare come schiavo sotto il comando degli undici per sempre no una multa e restare in carcere finché l'avessi pagata non ho mezzi per pagare tutto il più potrei multarmi di una mina d'argento a te niente Platone qui presente e Critone e e Critobulo e Apollo d'oro insistono perché io mi multi di trenta mine e si dicono pronti a farne la garanzia ma mi multo di trenta mine e del denaro vi saranno garanti costori e potete calcolarsi per maggioranza di ottanta voti la commutazione proposta è respinta e Socrate di Sofronisco è condannato a morte con bevanda di cicuta per non aspettare qualche anno voi Ateniesi avrete fama e conto e conto di aver messo a morte Socrate nè io mi adiro contro coloro che mi accusarono e che mi condannarono e rivolgo e rivolgo e rivolgo una preghiera quando i miei figli saranno adulti si mostreranno di occuparsi più delle ricchezze che della virtù e se non le persone cittadini castigateli infliggendo loro gli stessi dolori che io ho inflitti a voi se così farete renderete il giusto a me e ai figli miei, ma è già l'ora di andare. Si vada, io a morire, voi a vivere. Chi di noi vada incontro alla sorte migliore è ignoto a tutti, fuorché a Dio. Grazie a tutti. 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 sarà anche vergogna perché quelli che non ci conoscono diranno che io pur potendo salvarti col mio danaro non l'ho fatto e che uomo sembrerò io che stima più il danaro dell'amico perché nessuno crederà che sia stato tu a non poter uscire di qui. Oh mio buon critone e dovremmo noi badare all'opinione del volgo? Ma tu vedi da questo tuo caso che è pur forza a preoccuparsi anche dell'opinione del volgo la quale può produrre dei mali tremendi per colui che ne sia messo in discredito. Magari pure potesse l'opinione del volgo fare il gran male che allora potrebbe fare anche il gran bene ma in verità essa non può fare né una cosa né l'altra perché non può fare che l'anima dell'uomo sia o non sia onesta. Sarà vero ah ma tu forse hai paura che fuggendo i sicofanti poi abbiano a molestare me e tutti gli amici tuoi e che noi dovessimo rimetterci tutto il nostro danaro e soffrire anche cose più gravi? Oh se è questo non curartene amico è giusto che a questo e da cose gravi noi ci esponiamo. Dammi dunque ascolto e fa quello che ti consiglio se è solo il pensiero del nostro danno di poi che ti trattiene. Sì a questo penso e a molte altre cose. Non temere non ci vorrà troppo danaro i sicofanti sono gente a buon mercato e i miei danari basteranno e se ti dai pena di me ebbene ci sono molti forastieri disposti a spendere per questo. Quel tebano sin mia ha portato per questo molto danaro e poi beh cedete e molti altri non preoccuparti dunque di questo. Ne penserai sul serio ciò che hai detto in tribunale che uscendo da te ne non sapresti che fare né dove andare. Oh Socrate ovunque sarai accorto con lietezza e se ti vorrai stabilire in Tessaglia dove io ho molti cari amici mi potrai stare lieto e sicuro. È ingiusto credilo è ingiusto questo abbandonarsi ed ostinarti al tuo proprio danno più che non si siano ostinati i tuoi nemici a fare la tua perdita. E ti dirò pure che ho la sensazione che tu tradisca i tuoi figlioli lasciandoli nell'abbandono invece di educarli e difenderli da tutti quei casi ai quali sono sempre esposti gli orfanelli. I figlioli Socrate o non bisogna averne o bisogna educarli e sorreggerli. Dovresti intenderli tu questi i doveri tu che hai praticato la virtù durante tutta la tua vita. Ma per verità ho vergogna di te e di me. Di te prima per quella tua entrata in tribunale mentre potevi non venirci, poi per quella non curanza di come si svolgesse il giudizio e adesso per questo tuo rifiuto ostinato che si potrebbe dire la catastrofe ridicola della tua tragedia. Ho vergogna per me e per gli altri amici tuoi che saremo giudicati ignari ed egoisti perché potendoti salvare non lo abbiamo fatto. Pensaci Socrate. Anzi no, non pensarci. Risolviti che adesso ne abbiamo ancora tempo e nella non t'avev niente bisogna che tutto sia fatto. Mi ascolti? Socrate mi ti ascolti? Sì, ti ascolto. Ti ascolto amico e stimo molto la tua premura. Però finché è in accordo con la rettitudine ma quando non l'hai più la tua premura mi diviene grave ed ostile. studiamo, studiamo insieme se quanto proponi sia da farsi o no. Io vedi ho sempre obbedito soltanto alla ragione la quale dopo le opportune considerazioni mi conduce sempre a scegliere la via migliore. E ora penso, quegli argomenti che trovavo buoni prima, non posso certo rifiutarli ora soltanto perché è sopravvenuta a me disgrazia. Dunque studiamo, esaminiamo pacatamente la cosa riprendendo il discorso di poc'anzi sulle opinioni degli uomini. Dicevo dunque che alcune sono da pregiarsi ed altre no. Ti sembra giusta massima, Cretone? Giustissimo. Preciare comunque le opinioni buone, non le cattive. Certo. E le opinioni buone non sono forse quelle dei saggi e non quelle degli storti. Come negarlo? Sì, ad esempio, poniamo che uno si dia ad esercizi ginnastici. Dovendo costui valutare le lodi e i biasini, dovrà tener conto dell'opinione di tutti o di quel solo che sia maestro in tale materia? Di quel solo. E dovrà quindi agire, esercitarsi, mangiare, bere, secondo i dettami di quel solo e non degli altri, certo, e disobbedendo a quel solo per seguire i consigli degli stolti e degli ignoranti. Non gliene verrà male? E come no? E questo male dove lo colpirà, prima di tutto, nel corpo che comincerà a soffrire. Ben detto, Cretone, ben detto. E nel caso nostro, trattandosi non di esercizi ginnastici, ma di giudicare del buono e del cattivo, del giusto e dell'ingiusto. Dovremmo noi tener conto dell'opinione della moltitudine ignorante e averne paura, anziché dell'opinione di quel solo che possa esserne maestro. Di quel solo. Di quel solo che conosce il giusto e l'ingiusto. Di quel solo che è la stessa verità. Sì. E allora, convinti di questo, vediamo se sia giusto o ingiusto che io tenti fuggire di qui contro il volere degli Ateniesi. Se sarà giusto, noi proveremo a fuggire. E se sarà ingiusto, resteremo qui. Sì. Vediamo, Socrate, quel che si debba fare. Sì. Ora supponi che mentre noi cerchiamo di fuggire di qua, si facciano innanzi a noi le leggi. Le nostre leggi. Le leggi da te, della patria nostra. Quelle leggi che noi abbiamo sempre rispettate e che io sempre predicai di rispettare. E mi incalzassero con domande e consigli. Di un po', Socrate, che hai tu in animo di fare? Sono le leggi che parlano, eh? Che fai o mediti con questa tua azione, se non di offendere, rendere vane e distruggere noi leggi della tua città. Come potrebbe non sovvertirsi quella città in cui i giudizi, una volta pronunziati, non avessero forza di venire eseguiti, ma venissero invece violati e resi ridicoli dagli stessi cittadini. Eh? Che cosa potremmo rispondere noi su questa violazione delle leggi che tende a distruggerne la necessaria austera interezza e coprire donta ridicola la patria? Beh, potremmo dire che la città ne ha fatto ingiuria perché in questa causa contro di me non ha rettamente giudicato. Ah, questo sì, Socrate, questo sì. E le leggi risponderebbero. E che non era fra noi convenuto che in qualunque caso tu dovessi startene al giudizio nostro? Poiché tu, Socrate, sai fare tanto uso di domande e risposte, rispondi. Di che accusi la città e noi sue leggi per tentare di disautorarci e di perderci? Non fu con noi e per noi che tuo padre prese tua madre e ti procreò? Hai tu ragione per biasimare quella fra noi leggi che presiede ai maritaggi? Eh, io dovrei dire di no, no, nessuna ragione. E a quelle leggi che impongono di bene allevare i figli e mercele quali tu stesso, Socrate, fosti allevato, nutrito, istruito nella musica, nella grammatica che hai tu da rimproverare? Forse che ora non ti paiono più giuste? Eh, io dovrei dire di sì. Ebbene, poiché fosti per noi generato, allevato, istruito, tu non puoi negare di essere nostro soggetto e alunno e servo di noi leggi. E se così è, credi giusto considerarti nostro pari e voler fare a noi ciò che noi dovemmo fare a te? Se non è possibile eguaglianza di diritti neppure fra padre e figlio, come puoi credere possibile eguaglianza di diritti e di ritorsione fra te e le leggi della patria tua? E quando ne avrai calpestate e avvilite potrai ancora credere di essere uomo giusto, tu, verace cultore di cittadine virtù, e ignori, tu sapiente, che primo d'ogni affetto è la patria che si deve onorare perché più augusta, più veneranda e più santa non solo presso i piccoli uomini ma benanco presso gli dèi. E lei si deve onorare e blandirla se è sdegnata e persuaderla se la sistemi caduta in errore. Fare quanto ordina con sommissione e pazienza, siano pure ceppi o battiture o partire per guerre dove rischio di morte. E non si deve tergiversare né abbandonare il posto assegnatoci così in guerra come nel foro e in casa. Che se in pietà sarebbe usare violenza contro il padre o la madre, in pietà maggiore sarebbe usarla contro la patria e le leggi che la costituiscono. Obedisci, Socrate, obbedisci alla maestà sacra della legge. E non anteporre vita, figliuoli, né altra cosa qualsiasi alla giustizia. Mentre fuggendo di qui vilmente, ricambiando male per male, ingiuria per ingiuria, violando il patto fra noi segnato, farai male a te stesso, ai figli, agli amici, onta alla patria e alle sue leggi. Queste, mio buon critone, sono le parole che già mi pare di sentirmi risuonare alle orecchie come ai corribanti farvi sentire le figlie ai flatti. E l'eco di queste parole si ripercote in tutto il mio essere così che... E, perdona amico, ma proprio non posso ascoltarne altro. Ecco, tu ora conosci tutto il mio pensiero e sta certo che sarà vano ogni tuo argomento contrario. Però, se credi che ancora giovi a qualche cosa, parla, parla, io ti ascolto. No, Socrate, non altro. Non ho altro da dirti. E allora, amico, lasciamo andare e restiamo ciascuno al nostro posto, poiché il Dio vuole così. Grazie. Socrate. Socrate, è questa l'ultima volta che i tuoi amici parleranno con te e tu con loro. Ti prego, critone, fa che alcuno la riconduca a casa. E gli altri due, ragazzi, va sottonti a casa. Sì, richi passi a casa. Sì, richi passi a casa, non ho dire l'ultima volta che i tuoi amici coverage del sol, Sì, richi passi a casa. Sì, richi passi a casa. Sor님이, la casa è una casa. Genova, non ho, che c'è quella chiesa la casa. Che cosa prodigiosa, amici miei, è questa che gli uomini chiamano piacere. Prodigiosa rispetto all'altra, che è il suo contrario, il dolore. Due cose che non vogliono mai trovarsi insieme nella stessa persona. Ma se a qualcuno accada di essere colto da una di esse, ecco poco dopo sopraggiungere l'altra, come se le cose fossero unite insieme. Credo che se Esopo ci avesse pensato, ne avrebbe ricavata una favola. E cioè che mentre piacere e dolore erano in guerra fra loro, il Dio, volendo pacificarli e non riuscendovi, ne congiunse insieme le estremità, tal che a chiunque sia visitato dall'uno di essi, sia impossibile evitare di ricevere anche l'altro. E così accade ora a me, che dove prima, per effetto del ceppo, era il dolore, ecco ora sopraggiungere il piacere. Per Giove, mi fai ricordare, tu dopo entrato qui hai posto in versi le favole di Esopo e il proemio di Apollo. Prima non avevi mai fatto versi, da tutti e specialmente da Eveno mi si chiede il perché. Che devo rispondere? Dirai ad Eveno la verità, E cioè che io non composi quei versi per emulare le sue poesie, che certo non avrei potuto, ma per obbedire a certi sogni che ebbi sempre in mia vita e togliermi ogni scrupolo. Più volte, nei miei anni trascorsi, ebbi un sogno, ora in un aspetto, ora in un altro, ma che però sempre mi diceva Socrate, fa musica, fa musica. Io credevo che il sogno mi esortasse a fare ciò che appunto facevo, essendo filosofia la migliore di tutte le musiche. Quando poi fui condannato e la festa del nome mi ritardava il morire, pensai di obbedire a quel sogno e fare quanto ordinava. Scrissi allora alcune strofe in onore di Apollo, cui è sacra la presente festa. Ma poi, considerando che un poeta deve far favole e non discorsi, non essendo io favoleggiatore, misi in versi le prime favole di Esopo che mi capitarono a mente. Ecco, dirai questo ad Evel e digli anche che lo saluto e che si affretti a seguirmi, se a buon senno, che io me ne vado a quanto pare oggi. Così vogliono gli Ateniesi. Quale esortazione fai tu ad Evel? Non credo, sai, sia molto disposto a seguirti. Ok, non è filosofo Evel? Pare di sì. E dunque, lo vorrà Egli, come qualunque altro filosofo? Spiegaci, su che base è questa tua certezza? Eh, mi proverò a spiegarvi come e perché un uomo che ha speso tutta la vita nella filosofia debba essere lieto sul punto di morire perché sorretto dalla fiducia di raggiungere al di là maggiori beni. Ma prima sentiamo cosa abbia da dirmi il nostro buon Critone, il quale pare proprio abbia qualche cosa da dirmi. Niente altro, Socrate, se non che è quest'uomo che deve darti il veleno. Mi esorta a dirti di non discutere troppo. Una disputa potrebbe accalorarti e ciò sarebbe contrario all'effetto del veleno e allora c'è il pericolo di doverne bere due e anche tre volte ancora. Digli di stare allegro e che prepari quanto deve come se dovesse darmene due o tre volte ancora. Ma io lo sapevo già, ma costui insiste. E tu mandalo a spasso. Eccomi a voi. Che cosa è mai la morte se non la separazione dell'anima dal corpo? Per restare da una parte il corpo da sé separato dall'anima e dall'altra l'anima da sé liberata dal corpo. E questa è la morte. È questo. È questo. E tu? Credi degna cosa per un filosofo correre dietro ai piaceri della mensa, mangiare, bere? No, Socrate. E ai piaceri sensuali? No, davvero. E avere in pregio ornamenti ricche vesti, bei calzari? O deve un filosofo spregiare queste cose? Se è veramente filosofo, spregiare. Allora tu pensi che debba staccarsi il più possibile dal corpo per curarsi dell'anima. Appunto. E per l'acquisto della sapienza, dire un po'. Per l'acquisto della sapienza il corpo non è un inciampo. La vista, l'udito, ne dicono essi il vero o come affermano i poeti tutti i sensi sono fallaci. non ti pare che l'anima scorga meglio nelle cose quando può scrutarle col solo razioginio e tutta raccolta in se stessa a strarsi dalle povertà del corpo per inalzarsi con purezza alla contemplazione dell'essere? Certamente. Per mezzo della ragione dunque noi potremo giungere alla giusta comprensione delle cose ma finché questo malanno del corpo terrà vinghiata l'anima nostra essa non potrà mai delibare le verità a cui anela. Ogni inciampo viene dal corpo e le malattie gli amori forse nati le cupidigie tutto è per lui. E' chiaro dunque che per inalzarsi con purezza alla contemplazione della verità bisogna sbarazzarci del corpo ossia essere morti. Se dunque io non mi adiro né mi adoloro per lasciare voi amici miei e i buoni dei che ora mi hanno in custodia si è perché o buona speranza di trovare colà dove sto per andare amici altrettanto buoni ed ottimi dei. E' giusto il tuo ragionamento ma da che trai tu certezza che l'anima sopravviva? la maggior parte degli uomini crede che non appena sciolta dal corpo si dissipi e si disperda come nebbia o fumo. Tu dici il vero cebete la maggior parte degli uomini pensa così e beh voi tu si discuta fra noi se la cosa stia così o altrimenti o ascolterei ben volentieri il tuo pensiero su tali cose discutiamo dunque e poniamo così l'argomento se le anime dei defunti continuano a vivere in altro luogo per qual modo si generano se da consigli o da contrari tutto sembra avere il suo contrario il cattivo è contrario al buono il giusto all'ingiusto bisogna anzitutto vedere se tutto ciò che ha un contrario da null'altro tragga origine se non dal suo contrario appunto ma non deve esservi una pausa per la generazione da contrario a contrario mi spiego dal minore al maggiore c'è di mezzo l'accrescimento e dal maggiore al minore la diminuzione ecco le generazioni nel primo caso noi diciamo accrescere nel secondo diminuire e così per congiungersi o disgiungersi scaldarsi o raffreddarsi è così è così ora dimmi vi è il contrario di vivere vi è purtroppo ed è morire vita e morte si generano l'una dall'altra a vicenda perché contrarie e hanno due generazioni tieni a mente ora io nomino una coppia di cose e le loro generazioni poi continui tu facendo altrettanto vegliare e dormire si generano l'una dall'altra a vicenda perché contrarie e le loro generazioni sono dal vegliare addormentarsi dal dormire risvegliarsi ora va avanti e hai detto che morire è contrario a vivere dunque dal vivere che nasce il morire e dal morire eh non daremo anche al morire la sua generazione o che in questo solo natura sia zoppa io dico dal vegliare addormentarsi dal dormire risvegliarsi e tu dici dal vivere morire e dal morire rivivere ecco è forza dirlo e abbiamo così buon argomento per credere che le anime nostre continuino a vivere in altro luogo dove poi tornano a noi per le cose convenute pare sia così anche secondo quel che spesso dicesti cioè che il nostro imparare non è che ricordare è necessario che in un tempo anteriore noi imparassimo quelle cose delle quali ora ci ricordiamo anche per questo l'anima dimostrerebbe qualità immortali cebetti dammi di ciò una dimostrazione che questo io non lo so come tu non pensi che quel che crediamo imparare sia invece ricordare ascolterei volentieri come tu possa provarlo per ricordarsi di una cosa bisogna averla già conosciuta prima ne conviene ne convengo se alcuno imparando una cosa non solo si ricorda di questa ma ne pensa subito un'altra anche non uguale anche di simile non diciamo noi che questa gli ha fatto ricordare di quella come a dire mi spiego la cognizione della donna è una cosa e la cognizione della cetra è un'altra lo credo ora accade a un giovane che la vista della cetra o della veste o dei sandali di una fanciulla richiami tosto al suo pensiero le vaghe forme della sua amata e questa è riminiscenza certamente e non accade che vedendo un cavallo ci ricordiamo del suo padrone o vedendo simmia dipinto ci ricordiamo di simmia vivo o incontrando simmia ci ricordiamo di cebete la riminiscenza può nascere dunque tanto da dissimili che da consimili senza dubbio ma la cognizione delle cose materiali noi la prendiamo con gli occhi col tatto con sensi dopo essere nati non è così? è vero bisognava dunque averne conoscenza prima e se un fanciullo che sta apprendendo cosa materiale è assalito dal pensiero di cosa immateriale vuol dire che egli conosceva entrambe le cose prima per riconquistarle poi e forza che noi avessimo cognizione di tutte le cose materiali e immateriali prima per ricordarle poi ora dimmi quando le anime nostre poterono apprendere tutte queste cose nell'istante stesso del nostro nascere no certo no certo dunque prima sì esistevano dunque le anime nostre prima di prendere queste forme umane e avevano intendimento poiché non si può apprendere nel nascere non v'è altro tempo Socrate il tuo ragionamento conclude trionfante e per me la tua dimostrazione è completa eccebete che ne dice? lo credo al pari di me convinto che le nostre anime esistevano prima del nostro nascere ma che morti noi esse continueranno a vivere questo Socrate non è dimostrato e vi è sempre la paura del volgo che morendo il corpo l'anima anch'essa si disperda e si dissimi appunto simmia che le nostre anime vivranno dopo di noi non è dimostrato pare che vogliate andare in fondo alla cosa e che temiate la dispersione delle vostre povere anime ebbene Socrate liberaci tu da questo timore che è angoscia di tutti a quale ordine di cose appartiene il dissiparsi e per quali anime si può temere vediamo dobbiamo noi ammettere che il buono il giusto la virtù gli affetti siano delle cose che esistono oppure sono niente sono cose che esistono e queste cose tu le hai mai vedute con gli occhi o toccate con le mani no è impossibile e perché perché sono invisibili ecco essenze invisibili le cose composte sono naturalmente destinate a scomporsi a dissolversi mentre le incomposte le essenze non possono temere dissolvimento le cose composte potranno variare cangiare mutarsi mentre le incomposte resteranno sempre uguali immutabili sì è vero è tutto dire le cose composte noi possiamo vederle con gli occhi toccarle con le mani mentre le incomposte le pure essenze non possiamo afferrarle che con la mente e considerarle col razioginio perché sono invisibili è giusto dato che il nostro essere si compone di corpo ed anima ora a quale specie di cose appartiene il corpo alla composta visibile e l'anima all'invisibile nel nostro essere è il corpo o l'anima che può comandare e dirigere l'anima perché essa sola ha la volontà ma comandare e dominare con la sola volontà è qualità divina sì dunque al divino immutabile incorruttibile invisibile appartiene l'anima e all'umano visibile corruttibile appartiene il corpo venuto l'uomo a morte la parte di lui visibile corruttibile il corpo insomma e forza si corrompa si risperda mentre l'anima essenza invisibile migrando verso tutto ciò che è più conforme alla natura sua verso il puro immutabile incorruttibile immortale che poi il dio buono e sapiente si sentirà libera e sicura scevra da menzogne e da illusioni ma se dal corpo uscirà contaminata per essergli stata troppo ligia nelle sfrenate cupidigie se avrà subito il contagio del corpo ne uscirà con un fardello così pesante di cose immonde da restarne gravata e andrà errando per luoghi tenebrosi con altri simulacri di anime impure ti pare che manchi qualche cosa al mio ragionamento ti dirò il vero Socrate da un pezzo ognuno di noi spinge l'altro per incoraggiarlo a farti ancora parlare per il grande desiderio di udirti ma temiamo di esserti molesti nella tua presente disgrazia e come farò a persuadere gli altri che non stimo sventura per me questo avvenimento se non riesco a persuaderne voi ma potete chiedere quel che volete finchè gli undici da te ne lo consentano credo d'altronde che non sottoporra ad ogni prova tali argomenti e cessare le indagini prima di averci spese tutte le forze della mente sia grave colpa ecco dunque ciò che tiene incerti me e ce vede pare a noi Socrate che non si sia detto abbastanza e forse amico quel che ti pare è la verità si potrebbe dire dell'anima come dell'armonia di una lira che è qualche cosa di invisibile e divino ma la lira e le sue corde sono però cose composte e corporee e spezzata la lira e strappate le corde cessa l'armonia che pur essendo cosa divina è pur sempre risultante da cose materiali e periture così l'anima essendo essenza pura e divina potrebbe essere risultante da materie multiformi e composte del corpo umano e quando questo sia distrutto dalla morte anche l'anima venire a disperdersi saggia saggia argomentazione si mia e ora a te cebete ho la sensazione che siamo fermi allo stesso punto dimostrato che l'anima viveva prima di noi non è provato che non possa con noi morire e concesso pure che un'anima possa albergare in vari corpi uno dopo l'altro nulla assicura che al fine stanca e sfinita non possa morire nessuno credi potrà fidare di non morire interamente finché non sia provato che l'anima è immortale domani forse mio buon fedone vorrai tagliare questi bei capelli o li taglierò certo tu taglierai i tuoi capelli domani per lutto della mia morte e io dovrei tagliare i miei adesso per lutto del mio ragionamento tagliarli e fare giuramento come gli argivi di non lasciarli ricrescere mai più finché battagliando non abbia vinto tutti gli argomenti di costoro vi dirò prima ciò che mi accadde un tempo da giovanetto mi invaghì della scienza che ha nome storia della natura e diveni frenetico di conoscere il perché di tutte le cose e andavo sempre fantasticando e perché si genera e perché si muore e come è sorta la specie umana e le piante e se le nostre sensazioni vengono dal sangue o dal cervello e a forza di fantasticare tutto cominciò a confondersi nella mia mente e delle cose che ero ben sicuro di sapere prima finì con non sapere più nulla ma un giorno udì a la sagora insegnare che la mente era fonte e governatrice di tutto ma quando chiesi il perché ciò avvenisse mi si rispose che il meglio era credere che le cose stessero così perché così era il meglio strano ragionamento come dire Socrate è rimasto seduto in questa prigione perché nelle gambe ha i muscoli e le ossa non perché la mente abbia comandato le ossa e i muscoli di restare e allora decisi di rifugiarmi nei ragionamenti e con l'aiuto d'essi soltanto cercare la verità io torno dunque alle mie antiche domande e da queste e dalle risposte vostre sorgerà forse la verità che cercate l'immortalità dell'animo ma diamo che per troppo ragionare non sappia a diventare misologi e finire con odiare i ragionamenti io non voglio convincere voi ma me stesso e voi non seguite Socrate ma la verità se dirò cosa ingiusta contraditemi senza pietà perché non voglio andarmene come l'ape lasciando il pungiglione nella ferita se mia non ammettesti tu che le anime nostre esistevano già prima di prendere queste forme umane si certo può esistere l'armonia di una lira prima che l'istrumento sia fabbricato è impossibile il tuo paragone dunque fra l'anima e l'armonia è forse poetico ma assurdo perché l'armonia è posteriore alla materia da cui vi è entrata fu convenuto che vi sono anime buone e anime malvagie e armonia non può ammettere in sé malvagità che è disarmonia è convenuto del pari che l'anima può comandare al corpo anche opponendosi alle passioni di questo come appunto Omero poetò l'anelodissea quando parlando d'Ulisse dice e picchiandosi il petto all'alma disse soffri anima mia che più soffristi anche Omero dunque credeva l'anima una forza divina capace di comandare al corpo e da se stessa e non un'armonia tratta dalla materia e della materia schiava così è e credo con l'armonia tevana di aver finito ora a te cebbero tu vuoi la sicurezza della immortalità dell'anima e che il filosofo il giusto venuto a morte sia sicuro di avere premio alla vita virtuosa e questo che chiedi questo e non chiedi poco per quella legge dei contrari di cui parlamo è convenuto che nessuna cosa potrà mai accogliere in se stessa il suo contrario è convenuto ed è pure convenuto che nessun contrario sarà mai contrario a se stesso vuor di dubbio rispondi ora che cos'è che apporta vita al corpo umano? l'anima sempre? sempre l'anima dunque apporta vita a qualunque corpo essa occupi ma vi è il contrario di vita? morte l'anima che è vita e apporta la vita non accoglierà mai in se stessa il suo contrario non l'accoglierà come chiami ciò che non può accogliere il giusto? ingiusto e ciò che non può accogliere morte? immortale l'anima che non può accogliere morte è immortale lo hai detto tu e poiché l'immortale e per sua natura incorruttibile l'anima non può perire quando al corpo si accosti la morte se il freddo fosse incorruttibile la neve all'appressarsi del fuoco fuggirebbe illesa e non perirebbe liquefatta vogliamo dire che sia provato provato eh certo provato immortale e incorruttibile l'anima dunque bisogna perciò averne cura non solo per questo tempo che chiamiamo vita ma anche per poi che se l'anima potesse perire col corpo sarebbe un gran bene per i malvagi saldare in una sola volta le proprie partite ma poiché essa è immortale null'altro rifugio o scampo è per lei se non nella bontà nella saggezza nella purità che null'altro l'anima reca al di là se non la disciplina degli affetti che qui la nutriranno e monda da ogni scoria terrena lieve sicura si innalzerà verso regioni terze e purissime dove gli ottimi e benevoli dei la accoglieranno ma il sole è già al tramonto un trageda qui direbbe me fratanto chiama la parca e mi pare giunta l'ora di andare a lavare il mio corpo prima di bere il veleno il farmaco per evitare alle donne di dover lavare il mio cadavere orvia socrate che cosa possiamo fare io e gli altri amici tuoi che possa essere accetto a te per i tuoi figli nulla più di quanto vi dissi se avrete cura delle anime vostre qualunque cosa farete anche senza promesse sarà un bene reso a me e come dovremo seppellirti oh come vorrete purché non sia contrario alla legge e io non vi scavo non vi scavo no non vi scavo non vi scavo non vi scavo E dimmi per la festa del Dio. 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 Addio e forzati a sopportare, quanto meglio ti sia possibile, la presente necessità. Addio a te pure. Che uomo garbato! E veniva spesso a trovarmi, si intratteneva a lungo con me, proprio un buon uomo. Su via Critone, diamogli retta e alcuno mi porti il veleno, il farmaco, se è pestato, se no lo pestino. E dimmi per la festa del Dio. 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 Di grazie, buon uomo. Tu che ti intendi di queste cose, che cosa devo fare? Nient'altro che presa la bevanda, passeggiare un poco, finché ti sentirai un peso alle gambe e allora ti stenderai l'animo. E che dici? Chi volesse libare con questa bevanda è lecito? No, noi peschiamo, Socrate, quanta crediamo che basti a bersi e non più. Capisco. Ma far voti agli dèi si può e si deve, perché il nostro passaggio all'altra vita sia felice. Così prego e così sia. Amici, amici, che fate voi? Per questo rimandai le donne, onde non avessero ad eccedere. Non si è sempre detto che bisogna morire con lieti auspici? Dunque, datevi forza e chetatevi. Ah, ma evanano, dunque, quello che dissi per vostra consolazione. Credone, tu hai fatto malevria ai miei giudici che io non sarei fuggito di qui. Ma vedrai che fra poco io mi ne vado, scarpe. Ma vedrai. 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 Amalia? Ma vedrai. E qui? E qui? E qui? E qui? Cretone, non dimentichiamo di sacrificare un gallo ad Esculapio. Sarà fatto, amico. Hai altra cosa da chiedere? E qui? 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 E qui?